Il suo nome Per terra mi pare 200 220 Cerchi di formulare meglio le sue affermazioni La sua parola qui diventa un atto E che c'è venuto a fare qua a Siena? Beh, è la città ideale Anche Baternò non è male Si sente una parola, poi un'altra Veda di darsi una smassa Che cosa hai visto prima di essere colpito? Concentrati Michele Signor Gressadonia Michele Fuori di non essere creduti si rischia di impazzire Allora a questo punto non ci vuole più l'avvocato Ci vuole un psicologo, un psicato Ma chi c'ha stasino a piedi palermo?